Buonasera amici, buonasera allevatori, siamo tornati, dopo la pausa delle feste, eccoci qua con una nuova puntata, come vi avevo promesso un sacco di novità, infatti avete già potuto vedere la nuova sigla, bellissima, e tra le altre novità avremo un sacco di ospiti nuovi. Come al solito abbiamo il nostro affezionato Tiziano Ghiemmi, medico veterinario freelance che collabora con noi per la Pineta, e un nuovo super ospite, Antonio Villasi, buonasera allevatore esperto genetista che ha scritto anche un libro genetica di base nel canorino di colore, tra l'altro che è stato tradotto in più lingue, in inglese e spagnolo, e non so se ci vuoi raccontare qualcosa di te. No, è più che altro che è solo passione per questo hobby che nasce da quando ero ragazzo, quindi serviva qualcosa di scritto per aprire il mondo ai neopiti, quindi ho fatto solo per più che altro per cultura e per aprire il mondo a chi comunque non sapeva o chi voleva sapere e non c'è, non trovava nulla per leggere. E direi che è una roba ottima, tra l'altro visto che essendo stato tradotto in spagnolo e in inglese, che sono le lingue che nell'ornicoltura sono le più richieste, direi che sta andando bene, dai. Sì, sì, sta andando benissimo a dire la verità, ultimamente è stato venduto tantissimo negli Stati Uniti, quindi dove la generivatura è in crescenza. Perfetto, allora se vuoi pure cominciare con il tuo corso, io intanto lascio Tiziano un attimo da parte, così lui rimane qui, se ci arrivano domande che gli allevatori hanno bisogno di un qualche consiglio veterinario, lui rimane sempre qui, però per ora lo nascondiamo. Allora. Posso iniziare? Posso iniziare? Allora, buongiorno a tutti, va bene. Questo escursus che iniziamo parte da una infarinatura generale sulla genetica dei cani di colore, soprattutto molto base per iniziare a capire come muoverci all'interno del mondo dei cani di colore, perché i cani di colore, come sappiamo, sono divisi in varietà e possono esprimere la varietà gialla, rossa, giallavorio, rossavorio, banco dominante e bianco recessivo. Possono essere divisi in categoria, c'è un errore sul PowerPoint, lo correggeremo, intenso, brinato e mosaico. e soprattutto, sì, differenziano in quattro tipi base, nero, Bruno, Agata, primo quattore di riduzione, Isabella, che è una sovrapposizione di Bruno e Agata. Questi li chiameranno tipi base o qual type, perché sono i tipi su quali accogliamo tutte le mutazioni sovrapposte. Le mutazioni aggiuntive legate al sesso, su varietà e categoria, sono l'avorio e il mosaico. L'avorio si ha sia in fattore giallo che in fattore rosso, anche il mosaico si ha sia in fattore giallo che in fattore rosso, e si può avere anche in avorio. Le mutazioni aggiuntive, invece, legate al sesso sul tipo, sono nero, Bruno, Agata, Isabella, Pastello e Satinè. Come vediamo, le prime tre sono i tre tipi base iniziali. I primi quattro sono i primi quattro tipi base iniziali, anche se l'Isabella viene chiamato tipo base, ma in fin dei conti è l'unica sovrapposizione riconosciuta di Bruno e Agata. Mentre le due sono due mutazioni aggiuntive. Infatti, un canarino che si chiama da sempre Nero, Bruno, Agata e Isabella può essere Nero, Pastello, Bruno, Pastello, Agata, Pastello, Isabella, Pastello. Il Satinè, invece, è una mutazione legata al sesso che non ha tipo base aggiuntivo. In questo momento si sta cercando di riconoscere il Satinè Bruno, ma l'unico Satinè riconosciuto è con il genotipo Isabella, perché il Satinè, Agata o Nero sono completamente senza disegno e sembrano degli ipocromici, quindi non sono riconosciuti a livello espositivo. Iniziamo, invece, con gli accoppiamenti. Un normale mutato e portatore. Un maschio mutato per femmina mutata avremo sia maschi che femmine mutate. Maschio normale per femmina mutata avremo tutti i maschi portatori del fattore legato al sesso, che abbiamo visto prima, e tutte le femmine mutate. Al contrario, maschio mutato, femmina normale, avremo tutti i maschi portatori, come l'accoppiamento di prima, e tutte le femmine mutate. Quindi, come vediamo in questo caso, si chiama legato al sesso proprio perché è il maschio che decide che il sesso opposto manifesta la mutazione, mentre il maschio dell'ascita non manifesta la mutazione, ma è solo un portatore. Maschio portatore per femmina normale si avrà la metà dei maschi portatori, la metà dei maschi normali che non porteranno la mutazione, e questo non possiamo riconoscerlo se non accoppiandoli. Le femmine, invece, si avranno femmine mutate e femmine normali. Le femmine normali non porteranno la mutazione, perché ricordo che è una mutazione legata al sesso e può essere portata soltanto dai maschi. Maschio portatore per femmina mutata, che in questo caso la femmina è anche mutata, si avranno maschi portatori e maschi mutati. Femmine mutate e femmine normali. Le femmine normali, a questo punto, saranno non portatrici, come ho detto prima, della mutazione, perché, essendo una mutazione legata al sesso, non può essere portata dalle femmine. Abbiamo finito l'escurso sulle mutazioni legate al sesso. Vorrei dire qualcosa in più su questo, perché è importante capire un attimino come funzionano. Le mutazioni legate al sesso funzionano avendo il maschio per potersi manifestare, il maschio deve essere o portatore o deve manifestare una mutazione. Se la manifesta solo la femmina, non si avranno mutati il primo anno. Questo deve essere chiaro per tutti e anche abbastanza semplice da capire. Mentre le mutazioni aggiuntive dominanti si hanno sul bianco dominante, che è un fattore di varietà, sull'intenso, che è un fattore di categoria, e sullo jaspe, che è un fattore del tipo. Quindi, su questo ci sono molte controversie sui fattori dominanti. Perché? Perché il fattore dominante manifesta la sua totale, la mutazione viene manifestata completamente sul doppio fattore. Viene manifestata parzialmente sul singolo fattore. Mi spiegherò meglio con gli accoppiamenti. Maschio mutato per femmina normale si avranno maschi mutati e maschi normali, che non portano la mutazione. La mutazione dominante non può essere portata, o è manifestata, o non esiste nel canarino. Femmine normali e femmine mutate. Come vedete, qui non c'è differenza tra il sesso dei maschi e il sesso delle femmine. Si ha in ugual misura la manifestazione della mutazione. Nello stesso tempo, si ha in ugual misura la non manifestazione della mutazione, in quanto si hanno femmine e maschi normali, che con la mutazione non hanno niente a che fare e non manifesteranno mai la mutazione nei prossimi accoppiamenti. Maschio normale per femmina mutata, questo l'ho fatto per farvi capire la differenza con sopra, con gli accoppiamenti legati al sesso, si avranno maschi mutati, femmine normali, femmine mutate e femmine normali. Anche qui si ha lo stesso risultato della coppia di sopra. Nei maschi si ha la manifestazione della mutazione. E la non manifestazione della mutazione. Nel normale non porterà mai questa mutazione né potrà manifestarla mai nei successivi accoppiamenti. Stessa cosa per le femmine. Qui iniziamo a entrare un po' nel più complicato, quindi vi prego di stare attenti un attimino. Maschio mutato. Per femmina mutata si avrà il 50% del singolo fattore della mutazione manifestata, quindi maschio mutato. Il 25% mozzicole della totale manifestazione della mutazione è il 25% di normali che non manifestano né ora né mai la mutazione. Stessa cosa per le femmine. 50% mutato, 25% mozzicote, 25% normale. Prendiamoci conto di una cosa. L'homo zigote fino a pochi tempi di tempo fa, soprattutto nel bianco dominante, veniva detto che non esisteva. Si è stato visto, prendiamoci conto anche che la genetica dei canarini è una genetica empirica. Molto spesso non è provata da prove scientifiche, ma da prove di accoppiamenti. Quindi ciò che viene detto non sempre è comprovato. Inizialmente si diceva che non nascevano, non potevano nascere i maschi e femmine omozigote, il 25%, perché morivano nell'uomo. Questo invece è stato visto che nascono normalmente. Soprattutto nello Iaspe è riconosciuto anche in Spagna il doppio fattore. Sia il singolo che il doppio fattore. Infatti sì, nello Iaspe si ha maschio Iaspe singolo fattore, Iaspe doppio fattore. Nell'intenso invece si ha l'intenso singolo fattore, l'intenso doppio fattore. Questo canarino non si riconosce dal precedente e non si può riconoscere dal singolo fattore se non da alcune caratteristiche come piumaggio più ruvido o carenza di piuma dietro l'occhio. Ma sono caratteristiche molto aleatorie. L'unico modo per riconoscerlo è l'accoppiamento. Vedremo dopo perché. Maschio omozigote o doppio fattore per femmina mutata si avranno 50% singolo fattore, 50% doppio fattore omozigote. Stessa cosa per le femmine. Come vedete, quando la mutazione è presente in doppio fattore e in singolo fattore non nascono più i normali. Il contrario ha lo stesso risultato. Faccio questi accoppiamenti per farvi capire la differenza con i fattori legati al sesso che abbiamo visto prima. Invece, maschio o doppio fattore che manifesta nella sua totalità la mutazione o così chiamato anche omozigote per femmina normale il risultato che per alcuni potrà sembrare stanano è tutti maschi e femmine singolo fattore. Voi vi chiederete perché? Perché la mutazione in parole non si manifesta completamente perché si mette il normale come femmina o maschio che sia. La stessa cosa, il contrario darà lo stesso risultato. Se qui avessimo delle femmine omozigoti e dei maschi normali maschi e femmine avremmo completamente singolo fattore. Allora, passiamo alle mutazioni recessive che sono quelle più tra virgolette gettonate in ornitologia perché sono presenti in tantissime mutazioni sia sulla varietà che sulla categoria che soprattutto sul tipo. Sulla varietà e categoria si ha sul bianco che si chiama bianco ma si chiamava una volta bianco recessivo proprio per dire che la caratteristica della mutazione è sul brinato. Invece, le mutazioni aggiuntive e recessive sul tipo sono onice, opale, mogno o mogano ho scritto mogno per comodità, eumo, cobalto, feo, topazio e di nuova acquisizione il perla. Che cosa significa mutazione recessiva? Mutazione recessiva significa che può essere portata da entrambi i fattori sia maschi che femmine. se vi ricordate sopra anzi ve lo faccio vedere legati al sesso l'unico canarino che può portare la mutazione legata al sesso è il maschio infatti sulla femmina o era normale o era manifestato mentre qui poteva essere portato solo dai maschi. Torniamo alle nostre mutazioni recessive maschio normale per femmina mutata una di queste sopra qualunque sia si avranno maschi portatori e femmine portatrici della mutazione come vedete non si manifesta in prima generazione ma da solo portatori in prima generazione stessa cosa se inverto gli accoppiamenti maschio mutato per femmina normale si avranno maschi portatori e femmine portatrici anche qui la mutazione non si manifesta in nessun modo iniziamo a vedere invece come si manifesta la mutazione a livello fenotipico maschio portatore per femmina mutata avremo maschi portatori e maschi mutati femmine portatrici e femmine mutate vedete qui si manifesta sul 50% della prole il contrario dà lo stesso risultato maschio mutato per femmina portatrice si avranno maschi portatori femmine mutate maschi mutati femmine portatrici e femmine mutate anche qui la manifestazione fenotipica della mutazione si avrà soltanto sul 50% iniziamo a complicare le cose maschio portatore per femmina portatrice cosa succede? il 50% di questi canarini porteranno il fattore recessivo il 25% manifesteranno la mutazione il 25% non manifesteranno la mutazione e non saranno neanche portatrici ma saranno canarini normali voi vi chiederete bene io come distingo il 50% che fenotipicamente è un canarino normale dal 25% che è un canarino normale non portato alla mutazione non posso distinguerlo se non accoppiandolo e questo è uno dei problemi di questo accoppiamento la stessa cosa nelle femmine il 50% saranno portatori il 25% saranno canarini mutati che manifestano la mutazione il 25% saranno normali e sono canarini che sono fenotipicamente uguali al portatore ma non porteranno la mutazione quindi non potranno mai farla manifestare nella loro propria prole scusate ma mi si è incartato ok il invece passiamo all'accoppiamento maschio mutato per femmina portatrice si avranno maschi portatori e maschi mutati femmine portatrici e femmine mutate l'accoppiamento contrario con maschio portatore per femmina mutata si avrà lo stesso risultato maschi portatori e femmine mutate femmine portatrici e femmine mutate ora negli ultimi anni si è stato detto che ci sono delle mutazioni alleliche questo non è mai stato comprovato potrebbero essere anche la stessa mutazione con selezione di manifestazione fenotipica differente il problema è nel risultato degli accoppiamenti si dice che siano ipoteticamente alleliche e qui ci metterei un ipoteticamente molto grande opale onice e mogno ipoteticamente alleliche feo e topazio voi dite che significa alleliche ve lo spiego da questo accoppiamento maschio opale per mutato per femmina mogno mutata cosa nasce? nascono tutti intermedi della mutazione non sono neopale ne mogno stessa cosa se io faccio maschio opale per femmina onice avrò tutti intermedi della mutazione non sono neopale ne onice se faccio onice per mogno avrò tutti intermedi della mutazione neopale ne mogno ne onice gli intermedi sono canarini di scarto non riconosciuti e non accettati a livello espositivo ma quindi scusami se ti interrompo per semplificare c'è un intermedio fenotipicamente come si presenta? si presenta è una via di mezzo tra le due mutazioni in alcuni casi ha una forbice molto ampia di fenotipicità cioè nel senso può tendere a una delle due per esempio opale e mogno può tendere all'opale e può tendere al mogno ma nella stessa provata potremmo trovare canarini che tendono all'opale e canarini che tendono al mogno quindi sono intermedi il problema grosso è che tra opale e mogno quando accoppio intermedio per intermedio dovrebbero uscirmi le mutazioni opale e mogno cosa che non succede ma continuano a uscirmi intermedi che spingono verso una o verso l'altra mutazione questo da prove fatte sugli accoppiamenti la stessa cosa succede su feo e topazio feo e topazio si accoppio soprattutto nei tipi diluiti feo e topazio escono dei canarini intermedi ad occhi rossi che si avvicinano tantissimo agli agata eumo i primi anni soprattutto quando l'eumo non era stabilizzato si faceva il carnaio cioè nel senso spessissimo ingabbiavano questi canarini come erano e vincevano anche perché negli anni si è un pochettino affinata la cosa perché si è visto che questi canarini hanno come caratteristica peculiare la raghi dei chiara il fondo è differente cioè hanno tante caratteristiche che non possono essere dichiarate eum bene io avrei un attimino finito e aprirei alle domande se avete anche qualcosa che volete che sia un po' più dettagliata parlatemi pure o qualcosa su cui fermarmi un pochettino di più si tra l'altro vorrei un attimo ricordare a tutti che siamo in diretta quindi qualsiasi domanda ci vogliono fare e la rispondiamo immediatamente se poi uno si vuole riguardare i video li ritrova sempre sulla nostra pagina facebook o anche sulla pagina youtube e può riguardarseli e ti volevo un attimo chiedere un'ultima cosa sempre sugli intermedi ma quindi sostanzialmente sono sempre degli scarti non si riesce a ritirare fuori la mutazione no perché comunque sono sempre degli scarti e ad oggi io non ho visto sia nell'intermedio di filetto pazio che negli intermedi di opale onice e morano la possibilità di tornare a una delle tre mutazioni o a una delle due si ha sempre un inquinamento della mutazione intermedia a cui è stata accoppiata quindi diventa veramente un canarino di scarto ciò nasce molto spesso ti posso dire mentre opale e mogno soprattutto si ha nei neri perché fino a quando il mogno non è stato riconosciuto c'erano tantissimi intermedi che vincevano le mostre perché sono fenotipicamente più appariscenti nei feo e topazio sia soprattutto nei diluiti negli agata perché qualcuno accoppia canarini che non sa che portano il topazio cosa che capita tantissimo il feo che capita tantissimo nei ceppi di negli agata rosso mosaio ma anche negli agata gialli e lo accoppia il topazio e ti escono dei camerini che non sai cosa sono ma sono degli intermedi questo perché perché torniamo tornando alle mutazioni regessive un portatore non si riconosce da un normale mentre tra virgolette il portatore di satinè lo riconosci perché infigia il tipo del portatore spesso lo riconosci soprattutto nell'agare nell'isabella nelle altre mutazioni sia quelle legate al sesso come pastello e sia quelle recessive i portatori non sono distinguibili da un normale se non accoppiati questo ricordiamocelo sempre che chi ti dice che riconosce un portatore di opale o un portatore di pastello da un normale bene sì può essere che molto probabilmente ha delle caratteristiche da portatore ma potrebbe anche non esserlo quindi al 100% nessuno ti potrà mai dire senza sapere da dove nasce quello è un portatore di qualcosa di una mutazione certo allora intanto ti dico ci arrivano tantissimi complimenti tanti saluti sia a te a noi a tutta la pagina abbiamo adesso ci sono 60 persone che ci stanno seguendo ah ok e via cominciamo con qualche domanda sì sì allora ci chiedono quindi si possono sovrapporre mutazioni sono riconosciute le sovrapposizioni allora non sono riconosciute si possono sovrapporre tutte le mutazioni soprattutto negli ultimi anni in IASP stanno sovrapponendo di tutto si può sovrapporre anche pastelletto pazio si possono sovrapporre per le mutazioni legate al sesso con mutazioni recessive mutazioni dominanti con mutazioni recessive o legate al sesso si possono sovrapporre mutazioni recessive tra di loro mutazioni legate al sesso tra di loro ma non sono riconosciute l'unica sovrapposizione riconosciuta è l'Isabella perché perché tra virgolette è nata tra le primissime mutazioni ed è stata riconosciuta come tipo base stiamo parlando degli albori della canaricoltura si sta studiando una mutazione allora quasi tutte le mutazioni sono a livello diluiscono la melanina l'unica mutazione che aumenta la melanina è il cobalto allo studio della CTN si sta iniziando a guardare una sovrapposizione che è il conix la sovrapposizione di cobalto e onice che fenotipicamente è bella il problema è riprodurla perché o accoppi conix con conix oppure ci metti un paio d'anni a farla più di un paio d'anni si parla di 3-4 anni per poter avere una sovrapposizione stabile quindi e sapendo quali sono gli accoppiamenti mirati per farla perché se non sai neanche come farla è inutile che ti metti perché stavi perdendo tempo quindi nessuna sovrapposizione ad oggi escluso l'Isabella è riconosciuta a livello espositivo perfetto chiarissimo allora Andrea ci chiede buonasera vorrei chiedere se si possono accoppiare due bianchi dominanti a prescindere dal sesso e la stessa cosa se posso accoppiare due bianchi albini grazie allora si possono accoppiare due bianchi dominanti a prescindere dal sesso tranquillamente e avrai ti condivido di nuovo lo schermo così gli faccio anche vedere il tipo di accoppiamento specifico sì eh ok allora dominante quindi sia dominante per dominante ha detto dominante per dominante giusto? esatto ok eccolo qua allora maschio mutato o femmina mutata o al completo alleliche no queste qua sono le alleliche scusate e qua sopra dominante ok ecco qua maschio mutato e femmina mutata dominante per dominanti cosa ti uscirà? il 50% dei dominanti il 25% dei doppi dominanti che non riconoscerai mai dai dominanti semplici e il 25% se i dominanti sono ipocromici molto probabilmente ti usciranno dei gialli molto probabilmente ti usciranno dei gialli brinati perché genotipicamente saranno dei brinati la stessa cosa per le femmine il 50% del singolo del singolo fattore cioè dominanti il 25% del doppio fattore e il 25% di gialli allora si credeva una volta che accoppiando dominante per dominante ci fosse il fattore subletale con accoppiamenti è stato visto che il fattore subletale in cana agricoltura non esiste oltretutto ci usava una parola sbagliatissima perché il fattore subletale significa che nasceva ma non era compatibile con la vita o con la riproduzione e quindi si sarebbe dovuto dire un fattore letale cioè un fattore letale significa che non nasce quindi si è stato visto che negli anni e si è stato visto che anche tutte le altre fattori dominanti del canarino hanno il doppio fattore nel bianco dominante come negli intensi il doppio fattore non lo riconosci e quindi hai soltanto un canarino che fenotipicamente è uguale a un bianco dominante ma che se è accoppiato lo puoi riconoscere da un accoppiamento se è accoppiato per esempio ad una gialla in questo caso del bianco dominante allora hai tutti i bianchi dominanti non ti uscirà neanche un giallo tanti anni fa mi è successo a me con una cata bianco dominante che ho accoppiato per 5 anni con qualunque cosa l'accoppiavo mi dava la cata bianchi dominanti ok tornando invece agli albini gli albini possiamo averli di due tipi e qua la cosa si complica possiamo averlo albino a fattore feo e albino a fattore satinè come abbiamo visto sopra il fattore feo è recessivo il fattore satinè è legato al sesso quindi se tu accoppi due albini con lo stesso fattore non hai problemi puoi accoppiarli tranquillamente e non hai nessun problema e avrai tutti occhi rossi per assurdo se accoppi un albino satinè per un albino feo là le cose si complicano perché stai accoppiando una mutazione legata al sesso per una mutazione recessiva quindi se l'albino satinè è maschio avrai tutte le femmine occhi rossi e tutti i maschi occhi neri maschi e femmine portatore dell'occhio rosso feo il contrario invece se avrai maschio occhio rosso feo per femmine occhio rosso satinè ti usciranno tutti gli occhi neri i maschi saranno portatori sia del fattore satinè che del fattore feo e le femmine saranno portatori solo del fattore feo quindi devi sapere chi divende o da quale ceppo vengono quale fattore albinoide hai nei tuoi lipocromici sembra una cosa complicata ma è chiara cioè nel senso o fai così oppure fai un vaso di pandora che dopo non sai come muoverti quegli accoppiamenti puoi fare tranquillamente albino per albino ma devi sapere che tipo di albino hai il problema è quello è sapere ecco ma molto spesso gli allevatori che hanno che cedono lo sanno anche se la maggior parte degli albini sono recessivi quindi cioè se compilano un allevatore spesso sa che tipo di albino ha dentro basta chiedere sì bene direi abbastanza esaustivo allora Angelo ci chiede se io accoppio un'agata giallo con molta feomelanina con un'agata opale giallo che ottengo 50% dei soggetti 50% portatore di opale e l'altro agata giallo allora agata giallo non portatore di opale e questo perché lui non ha scritto portatore giusto? ha scritto agata giallo per opale giusto? esatto allora tu ottieni tutti agata giallo se l'agata opale è giallo definiamo anche questo ricordiamoci sempre di mettere tipo varietà e categoria quando definiamo un canarino perché il canarino è fatto da tipo varietà e categoria chi mi dice ho un opale io gli posso chiedere opale bene agata nero bruno agata l'isabella intenso brinato mosaico giallo rosso rosso avorio giallavorio cosa quindi iniziamo a imparare anche a definire il canarino come ne ha definito quindi agata giallo penso sia intenso brinato per opale agata giallo intenso brinato avrai tutti agata portatori di opale tutti maschi femmine 100% portatori di opale se dopo ha feo melanina pure scarti quindi eh sì bene allora Leonardo ci chiede feo maschio per portatore di feo femmina feo maschio per portatore di feo femmina ti condivido lo schermo così ti faccio vedere l'accoppiamento specifico ok feo maschio per portatore accoppiamento fattori recessivi feo maschio quindi maschio mutato per portatrice femmina mi hai detto eh sì ok feo maschio quindi mutato per femmina portatrice eh Leonardo guarda di questa schermata e salva dalla così che cosa ti esce maschi portatori femmine maschi mutati se sei d'accordo potremmo anche condividerle queste slide non c'è nessun problema la pagina della fineta femmine mutate e femmine portatrici quindi cos'hai ai maschi maschi e femmine mutati maschi e femmine portatrici perché perché il fattore recessivo non è dal stesso che si manifestano maschiche che le femmine se in questo caso hai uno dei due canarini mutati è uno dei due canarini portatori ok Angelo per quanto riguarda prima diceva che il suo agato opale giallobrinato ok perfetto l'agato opale giallobrinato con un intenso parai maschi e femmine brinati ma fai tutti agata portatori di opale perfetto allora Paolo ci chiede il fattore subletale vale anche per i ciuffati tedeschi cioè si può copiare ciuffato per ciuffato allora ciuffato per ciuffato puoi accoppiare ma non è subletale perché io l'ho fatto anche nei Gloster ti escono però dei ciuffi pessimi soprattutto negli omozigoti cioè ti esi il 20-50% di ciuffi normali il 25% di ciuffi pessimi e quelli sono gli omozigoti e il 25% di non ciuffati riaccoppiare riaccoppiando gli omozigoti avrai il 100% di ciuffi normali è il problema grosso che però ti potrebbero uscire delle cisti di piuma nei ciuffi non buoni negli oster ti esce quindi sono canarini abbastanza deboli e nel ciuffo non consiglio farlo anche perché poi dopo rischiano di morire facilmente infatti allora Antosi chiede tornando all'accoppiamento dominante per dominante avevo riprodotto un doppio fattore dominante che scopriremo solo accoppiando l'anno dopo potrà riprodurre altri doppio fattore dominanti altra domanda accoppiando due dominanti doppio fattore che succede? nascono dominanti doppio fattore come lo jaspe se sei qualcosa di jaspe che se accoppi un jaspe doppio fattore per uno jaspe doppio fattore perciò lo jaspe doppio fattore bianco dominante doppio omogigode o doppio fattore per bianco dominante doppio fattore perciò lo bianco dominante e doppio fattore se tu accoppi un bianco dominante o omogigode per un bianco dominante singolo fattore fai in metà ti riporto l'accoppiamento così lo vedi e ti resta anche più impresso ok dominante eccolo qua maschio o femmina doppio fattore per maschio o femmina singolo fattore hai il 50% dei singoli fattori e il 50% dei doppi fattori uguale stesso risultato sia per maschi che per femmine perfetto Ahmed ci chiede cosa pensate dell'accoppiamento agata rosso mosaico per una femmina nera rosso mosaico e allora se non devi fare qualcosa di specifico e hai qualcosa di mirato da fare bene se invece devi selezionare agata o neri fai dall'accoppiamento ti escono tutte le femmine agata e tutti i maschi neri portatori di agata ma la qualità degli agata e la qualità dei neri è pessima cioè perché tu stai facendo un ossidato per un diluito quindi automaticamente avrai agata molto ossidati con un glienere e becco anche con la punta di fatida e neri con zampe chiare e con disegno spezzato se tu non devi fare qualcosa di specifico che dopo si entra nel dettaglio delle selezioni questo accoppiamento viene sconsigliato ma palesemente sconsigliato Ahmed ciao ci sta chiamando dagli Stati Uniti che lo conosco bene altro anche Giuseppe ci sta facendo i complimenti che sono molto interessanti queste dirette e a noi fa molto piacere anche perché sono utili per tutti anche per noi stessi che le facciamo allora Angelo ci chiede altra domanda se accoppio un agata intenso giallo intenso e un agata intenso pale giallo so che è sconsigliato ma cosa mi potranno uscire me l'ho consigliato oppure è sconsigliatissimo allora a livello di accoppiamento agata giallo intenso e un agata intenso pale giallo allora tu stai accoppiando intenso per intenso o pale per normale quindi avrai tutti gli agata portatori di opale intenso per intenso non è sconsigliato se dipende sempre dal tipo di canarino che accoppi perché se accoppi il tuo canarino a piuma lunga potrebbe essere anche consigliato o ti accoppi qualche canarino intenso che ha qualche brinatura e non manifesta nella sua totalità la mutazione intenso quindi intenso per intenso ti faccio vedere anche cosa ti esce come risultato allora torniamo agli accoppiamenti intenso è un fattore dominante eccolo qua quindi tu stai accoppiando intenso per intenso quindi mutato per mutato maschio mutato femmina mutata immagina che qui ci sia agata o pale giallo intenso e agata giallo intenso avrai tutti agata portatori di opale intensi doppio fattore intensi e brinati intensi doppio fattore intensi e brinati sia maschi che femmine i doppio fattore intensi non li riconoscerai dai singoli fattori intensi se non accoppiandoli una volta accoppiati ti potrebbero dare tutti i pensi mi hai condiviso doppio schermo? sì ok allora ci sono altre domande Giuseppe ci chiede si può accoppiare agata o pale intenso o brinato per agata argento? allora l'agata argento penso che lui chiami agata bianco l'argento è una nomenclatura abbastanza vecchia di una decina di anni fa si può accoppiare l'agata opale giallo per l'agata bianco l'unica cosa è che l'agata bianco ha sempre il fattore bianco è un inibitore della varietà quindi io non so se ha fattore giallo o fattore rosso se lo dovrebbe dire l'allevatore che l'ha riprodotto e non so neanche se mi stai dicendo se è recessivo o dominante perché i risultati sono differenti anche in questo caso perché l'agata bianco può essere geneticamente giallo o rosso geneticamente dominante o recessivo quindi si può accoppiare tranquillamente ma dipende l'agata bianco cosa è perché come abbiamo visto i fattori aggressivi si comportano in un modo i fattori dominanti si comportano in un altro se dopo tu stai accoppiando un giallo o un rosso fai un attimino di canarini arancioni che non so a cosa ti potrebbero servire se non hai nire di altro tipo quindi se tu inizi se tu sai come si chiamava scusa Giuseppe 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 se tu riesci a scoprire quest'agata bianco se è il dominante o recessivo ti dico anche cosa riesce dai risultati dell'accoppiamento quindi aspettiamo vediamo se ci dice qualcos'altro nel frattempo Giovanni ti salute ci chiede per la mutazione agata topazio è consigliabile accoppiarli puri o usare dei portatori allora sinceramente dalla mia esperienza d'allevamento dell'agata topazio che ho allevato tanti anni ora un po' molto di meno se sono buoni accoppiateli puri per puro perché o ti fai dei portatori ad hoc perché l'agata topazio ha bisogno della non tipicità dell'agata per farli buoni questo ve lo dico proprio palesemente lo so che qualcuno storcerà del naso ma per fare agata topazio buoni servono dei portatori specifici per fare agata topazio con melanina nera molto spinta con oglie scure con disegno molto nero un disegno molto evidente è allargato ovunque petto codione ma perché per fare quindi se vuoi usare degli agata normali per fare agata topazio è sconsigliato vivamente accoppia agata topazio per agata topazio e spingi sul contrasto in maniera totale e sulla massima rifazione della melanina spinta alla sua massima gradazione allora c'è Giovanni che ci dice anche se allevo tutt'altro è sempre interessante ascoltarvi infatti Giovanni se dici che cosa allevi che ci interessa anche a noi e magari se riusciamo anche a fare qualche altra puntata per altri ovviamente per chi interessano anche altre cose l'altro vi anticipo già che nella prossima puntata si parlerà di pappagalli quindi non ci saranno solo canarini approfondiremo un po' l'alimentazione dei pappagalli ora andiamo avanti un attimo con le domande Giuseppe ci chiede per fare dei buoni satinè è consigliabile fare i portatori con gli Isabella? dipende sempre da che satinè partendo e da che Isabella hai molta gente ti fa ma molta gente con gli Isabella soprattutto nel fattore giallo l'Isabella viene usata tantissimo per fare satinè mentre nel fattore rosso mosaico quasi nessuno utilizza Isabella per fare satinè ma si accoppia satinè per satinè dipende sempre da cosa parti e cosa ti serve nel tuo ceppo di satinè allora chiariamo questa cosa non esistono regole fisse negli accoppiamenti esistono risultati degli accoppiamenti nella selezione non esistono regole fisse nella selezione bisogna capire che canarino hai davanti e quali sono le cose che vuoi aggiustare sistemare o amplificare o ridurre e in base a questo utilizzi dei canarini partner che ti danno quelle caratteristiche perché la panacea dell'Isabella per satinè non esiste cioè nel senso che puoi mettere un'Isabella che ti distrugge il ceppo di satinè se hai un'Isabella che non fa bene per i satinè come puoi fare satinè per satinè e continuare a fare canarini scarsi come puoi fare satinè per fare satinè per fare canarini ottimi o mettere un'Isabella che ti migliora il ceppo di satinè lo so che non sto rispondendo a queste domande ma il problema grosso è che non c'è risposta perché si parla di selezione e nella selezione devi vedere il canarino che hai davanti per poter selezionare ah sì allora Gloster Pulito ci chiede come si fanno i Gloster Isabella i Gloster Isabella si fanno Agatha per Bruno cioè da voi lo chiamate Cinnamon ti fai un bel verde perché voi ancora li chiamate verde perché si alleva Gloster verde passepartout e lo riaccoppi ad Agatha ti uscirà qualche femmine Isabella non ho approfondito la parte dei passepartout perché diventa dopo molto complessa da districare passepartout significa un canarino che porta tutti i tipi in base Bruno Agatha Isabella se tu infatti fai l'accoppiamento di Agatha per Bruno o Bruno per Agatha ti nasceranno tutti i maschi neri portatori di Bruno Agatha Isabella quel canarino si chiama Cospartout in gergo canario cultura comunque visto che dicevi voi lo chiamate giusto per ricordare a tutti che tu sei in collegamento da Reggio Calabria infatti stasera uniamo l'Italia con i due reggio tra Reggio Emilia e Reggio Calabria no voi lo chiamate nel senso intendo gli allevatori di Gloster gli allevatori di Gloster i bruni li chiamano Cinnamon i neri li chiamano verdi anche perché non hanno il fattore rosso quindi se gli dico Bruno potrebbe non tutti gli allevatori di Gloster capiscono qual è Angelo ci fa un'altra domanda se accoppio un agata bianco brinato con un agata giallo intenso opale cosa mi esce? posso avere degli agata opale gialli brinati? l'agata bianco brinato? bianco brinato allora l'agata bianco non ha categoria quindi non posso sapere se è intenso brinato molto probabilmente è un brinato invece mi deve dire se è un agata bianco dominante o recessivo perché è nettamente differente la cosa e soprattutto se l'agata bianco nasce dai gialli o dai rossi questa cosa va chiarita perché allora iniziamo a capire tutti i fattori bianchi nel canarino possono nascondono spieghiamola chiaramente questa cosa una varietà non perché lo vedi bianco pensi che sia giallo no non perché lo vedi bianco pensi che sia intenso brinato no ti posso dire che soprattutto nell'agata soprattutto nell'agata a certi livelli quasi tutti gli agata bianchi sono dominanti e sono geneticamente moseco rosso perché perché il miglior tipo nell'agata è l'agata moseco rosso quindi per fare degli agata bianchi ottimi si è selezionato accanto all'agata rosso quindi se io per esempio accoppio un agata bianco dominante ottimo che viene dal moseco rosso faccio agata bianchi dominanti e agata rosso mosaico questa cosa la faccio io nei miei accoppiamenti tranquillamente e mi escono sia agata bianchi che agata rosso mosaico che si possono esporre tranquillamente quindi quando parliamo di agata bianco dobbiamo sapere che agata bianco abbiamo sotto mano perché se no rischiamo di fare cioè di aspettarci qualcosa che dopo non ci riesce e rischiamo di perdere anni nella selezione perché se per assurdo io prendo un agata bianco che viene dal rosso mosaico e glielo metto a un agata opale giallo brinato sì ok faccio pure qualche agata bianco dominante di bassa qualità però faccio anche degli arancioni che non so neanche che farmene che non sono né mosaico né brinati e sono carini che poi solo l'uccelleria vuole tanto ci chiede per migliorare e quindi accentuare la barratura all'area nel giaspe cosa consigli? allora per accentuare la barratura all'area nel giaspe è ridurre gli accoppiamenti di aspe per gli aspe perché se accoppi gli aspe per gli aspe sempre la barratura all'area aumenta non è sempre così perché la barratura all'area è quantitativa quindi per aumentare la barratura all'area devi accoppiare canarini con barratura all'area occhio che la barratura all'area finisce nella coda adesso diventano canarini brutti da guardare anche in esposizione penalizzati anche gravemente quindi per la barratura all'area va selezionata a livello quantitativo se accoppio due canarini con tanta barratura all'area avrò canarini con sempre più barratura all'area quindi è meglio preferire accoppiare canarini con barratura all'area con canarini che hanno meno barratura all'area per compensare chiarissimo intanto Angelo rispetto alla domanda di prima ci aggiorna che l'agato bianco pale è recessivo ed è uscito da un accoppiamento di agata giallo per agata giallo opale perfetto ok così è perfetto allora agata bianco opale recessivo per agata opale giallo brinato mi ha detto giusto? risonimi alla domanda perché non le vedo si adesso ho richiamato una domanda era agata bianco brinato con agata giallo intenso opale perfetto se l'agata giallo intenso opale non porta bianco recessivo ti usciranno agata opale intensi e brinati molto probabilmente tutti portatori di bianco se invece porta recessivo ti usciranno il 50% quindi tu mi hai detto che l'agata bianco è portatore d'opale però perché nasceva d'opale giusto? risaliamo al primo tipo di questo canadino sì agata giallo per agata giallo opale figlio ok quindi l'agata bianco è portatore di opale quindi farai agata bianco allora farai agata opale giallo e agata giallo portatore di opale se l'agata opale giallo non porta recessivo se porta recessivo farai agata opale bianco agata bianco portatore di opale agata opale giallo intenso e brinato e agata giallo intenso e brinato portatore di opale Perfetto Giuseppe, io allevo i Feo mosaico rosso è sempre opportuno usare i portatori? Allora Giuseppe, se allevi i Feo mosaico rosso sai benissimo che i portatori di Feo sono dei canarini molto atipici e sono fatti solo per fare Feo perché sembrano dei pastello bruni con disegno quasi impercettibile perché hanno una carica di Feo melanina importante, se utilizzi quei portatori va benissimo anche perché tra virgolette alcune femmine Feo hanno difficoltà a impeccare se gli metti un bruno tipico rischi di fare danni sui Feo perché riduci notevolmente la carica Feo melanica del Feo quindi se hai i portatori di Feo che sono buoni per fare Feo utilizzate come? Dichiaro anche questa cosa spesso le mutazioni sovrapposte hanno portatori specifici e non sono tipici per fare saltare la mutazione chi ti dice che tutte le mutazioni sovrapposte si fanno con i canarini tipici vorrei vedere le sue coppie soprattutto nell'agata e nel bruno allora i canarini i portatori delle mutazioni sovrapposte sono specifici per fare saltare la mutazione Paolo accoppiamento giallo mosaico femmina lutino occhio rosso e maschio portatore di occhio rosso i piccoli come usciranno ad occhio rosso oppure neri e quali saranno i maschi e quali le femmine? allora domandone da un milione di euro l'occhio rosso è recessivo feo osatine proprio quello di cui parlavamo prima perché? vabbè maschio portatore per femmina occhio rosso in entrambi i casi fai maschio e femmine occhi rossi maschio e femmine maschio e femmine occhio nero se è recessivo le femmine ti porteranno anche l'occhio rosso se non è recessivo le femmine non ti porteranno l'occhio rosso e i maschi si dopo se accoppiando mosaico per mosaico i maschi li vedi le femmine pure quindi che mi chiedi maschi e femmine non so perché se tu accoppi portatore di occhio rosso per l'occhio rosso ti escono maschi occhio rosso e occhio nero sia se è recessivo o se è legato al sesso i maschi te lo portano comunque femmine occhio rosso femmine occhio nero se è legato al sesso le femmine non te lo portano se è recessivo le femmine te lo portano spero di essere stato chiaro chiarissimo ok Gianluca buonasera per ottenere dei buoni rossi avorio può essere necessario inserire un portatore o si può andare avanti in purezza? dipende sempre che rossi avorio hai allora il rosso portatore d'avorio molti lo usano però dipende sempre ho visto coppie di rossi avorio fantastiche che camminavano rossi avorio per rossi avorio dipende sempre se ti hai qualche caratteristica da migliorare nel tuo rossi avorio che non trovi nel rossi avorio lo trovi nei rossi e quindi gli porti quella caratteristica specifica nei tuoi rossi avorio perché ti serve e usi un portatore rosso benissimo allora vedo che per ora non ci sono nuove domande e vuoi aggiungere qualcosa? no più che altro io vorrei aggiungere che si dovrebbe iniziare a capire che quando parliamo di canarini di colore dobbiamo capire che i canarini di colore sono composti e questo lo ripeto perché è un errore che si fa spessissimo da tipo, varietà e categoria quando dichiariamo un canarino di colore lo dobbiamo dichiarare con tipo, varietà e categoria perché? perché spessissimo anche su facebook oppure si pubblicano canarini o si chiede di canarini dicendo opale dicendo o uno jaspe ho capito bene bello ok nero, bruno arabe, sabella intenso, brinato, mosaico rosso, giallo rossavorio giallavorio cosa è? perché? perché se si impara a fare questo piano piano si imparerà anche ad accoppiarli perché in base a cosa hai dopo ci sono delle regole fisse quindi dichiariamo bene cerchiamo di capire come dichiarare il canarino che è una cosa che spessissimo non viene fatta e cerchiamo di capire che le mutazioni non sono solo nel tipo ma sono anche in varietà e categoria quindi il comportamento genetico non è solo nel tipo ma è anche in varietà e categoria quindi il risultato si avrà anche per varietà e categoria nel frattempo sono arrivate tante domande un'altra di Angelo quest'anno vorrei fare un'ibridazione con un cardellino l'accoppiamento sarà femmina agata bianco recessivo intenso con un cardellino nostrano come mi uscirà la prole? mi uscirà tutta nera perché il cardellino geneticamente è nero un cardellino come se lo accoppi con un nero non cambia non c'è nessuna differenza è tutta effettuata buonasera Antonio ci chiede Luigi gli agata di Banare secondo te da dove vengono fuori? domandone da un milione di euro e siamo a due domandone? no questa è una domandona molto più specifica gli agata di Banare secondo me vengono fuori da una selezione del nero non c'è il lizard lì ma è una selezione fatta molto bene molto molto bene perché se tu vedi gli agata di Banare hanno coglione spalline disegnati cosa che molti 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 agata non hanno questa è la mia opinione dopo io non lo so non ho parlato con Banare è una mia opinione personale però se tu vedi i maschi di Banare hanno il petto che è fantastico cosa che fino a qualche anno fa era difficilissimo da trovare e soprattutto hanno una selezione di chicchettatura non indifferente Thomas sono una selezione di cosa stiamo parlando però va bene e diciamo che qui ci addentriamo nei discorsi complicati allora Cesare collegandomi alla domanda di Giuseppe sui feo e i relativi portatori vista la differenza di pensiero cosa ne pensi dei nero feo possono provocare la melanina centrale? sì i nero feo provocano la melanina centrale ma soprattutto i nero feo difficilmente hanno la stessa tonalità nocciola del fondo di un feo bruno quindi a livello selettivo è complicato che un nero feo possa battere un bruno feo cioè rendiamoci conto anche di questo perché caricare la stessa feo melanina su un nero dopo diventa complicata quindi sì si possono fare fenotipicamente sono uguali bruno e nero fenotipicamente sono uguali il nero è vero che tende a fare melanina centrale felice buonasera non sono un elevatore ma un semplice amante di animali posseggo già un pampagallo del Senegal di 11 anni mi piacerebbe prendere una coppia di canarini da tenere in veranda quale potrebbe essere un inizio non molto complicato per un neofita so che probabilmente è una domanda troppo generica grazie secondo me la cosa migliore è iniziare con dei canarini o dei neri o dei pezzati perché? perché così ti appassioni e li vedi di produrre se inizi con tipi selezionati la probabilità che tu non riesca a riprodurli è alta non avendo esperienza e poi ti deprimi e ti deprimi e non allevi più tutti abbiamo iniziato con dei pezzati nella gambietta siamo riusciti a riprodurli e dopo siamo a passare a un livello superiore dopo ti appassioni dopo vai a vedere tutti i colori vai a scoprire la genetica e vieni a vedere i nostri video allora Dennis ci chiede Luigi secondo me Jagata che dici te li dà con i Lizard sempre riferito alla sì c'è anche questi ipotesi ma non mi sbilancio su questo perché non saprei che dirti lui dichiara che no e quindi non non ci addentriamo via andrebbe chiesto a banare allora Giuseppe ci chiede cosa ne pensiamo dell'acqua ossigenata questa domanda magari potremmo richiamare un attimo che per me è un disinfettante possiamo chiamare prendiamo un attimo Tiziano controllo che nella scorsa puntata ne abbiamo parlato abbondantemente dell'acqua ossigenata però Tiziano ci puoi dire due parole sì allora l'acqua ossigenata è giustamente come dite voi è un disinfettante per la precisione per ossidi di idrogeno quindi una soluzione per ossidi di idrogeno è un ossidante quindi ad alte concentrazioni tossico e fortemente caustico a basse concentrazioni viene ampiamente utilizzata anche in zootecnia nella gestione ad esempio delle coli bacillosi in avicoltura allora in realtà in ambito ornitologico si utilizza può avere senso specialmente per la sanificazione degli impianti a goccia anzi quando si hanno degli impianti a goccia è indicato l'utilizzo mensile quindi la la circolazione di una soluzione di perossido nell'impianto e sì può essere utile effettivamente può dare un beneficio ora che sia terapeutica se c'è proprio una forma effettiva anche perché poi la questione è quella che l'acqua ossigenata ha un'azione locale nel tratto intestinale e poi anche lì ci sono dei meccanismi di difesa dell'organismo per bloccare l'azione delle sostanze ossidanti quindi quando viene ingerita ha un'azione limitata a esofago stomaco e probabilmente i primi tratti del duodeno oltre non riesce ad avere un'efficacia quindi potrebbe effettivamente avere un certo potrebbe dare un certo beneficio nel trattamento di patologie nei primi tratti digerenti oltre no di sicuro non ha nessuna azione nel trattamento di patologie sistemiche viene utilizzata per la megabatteriose effettivamente per la megabatteriose si localizza nello stomaco il megabatterio è un microaerofilo che ad alte concentrazioni di ossidanti quindi ad esempio di ossigeno o di acqua ossigenata patisce quindi sì sì può essere utile magari in associazione a delle terapie antimicotiche specifiche può essere utile Paolo ci chiede ti tengo Tiziano che anche questa è una domanda che si rispondi te inizierò le cove a marzo e vorrei spostare i miei canarini in un nuovo alloggio entro quanto posso spostarli senza condizionarli? io non li sposterei cioè adesso siamo un po' troppo avanti per spostarli rischi grosso se li sposti adesso cioè rischi di avere un forte stress e la prima covata ti parte secondo me poi li eviterei io eviterei di spostarli se no uno se è proprio costretto li sposta però sa che magari c'è un alto rischio di avere una forte infertilità in prima covata e vari problemi via considera di poter perderla prima covata abbondantemente allora ti faccio l'ultima domanda che poi abbiamo superato diciamo la nostra ora poi le prossime domande perché ne stanno continuando ad arrivare però non ci allunghiamo troppo le risponderemo poi non più in diretta ma risponderemo commentando allora Luigi ci chiede cosa ne pensate dell'accariasi respiratoria ho letto molti articoli che la rara reputano una malattia molto rara soprattutto visto che stiamo anche uscendo un po' dal tema della genetica diamo quest'ultima domanda ma allora l'accariasi respiratoria è molto frequente nei diamanti di Gould e in alcuni esotici come i granatini nel canarino allora è vero che si dice che effettivamente ci sono dei casi specialmente canarino che pippa così in realtà molto spesso sono tracheiti batteriche o tracheiti ambientali da ambienti polverosi infatti si notano di solito alla fine della muta sui soggetti giovani o su soggetti di una certa età su Gould sicuramente è molto molto frequente è una delle cause principali di mortalità su alcuni esotici è abbastanza frequente sul canarino non è impossibile però è spesso sovrastimata perché tante volte non è accariasi ma sono altre problematiche non legate all'accariasi da sterno stoma quindi da carorespiratorio effettivamente comunque il trattamento si fa con ivermectina adatta per bocca diluita 1 a 10 oppure anche con la selemectina che è un farmaco abbastanza recente che si utilizza molto spesso per la gestione anche degli accari cutanei bene adesso ti lascio andare ti ringraziamo grazie a voi ci sentiamo alla prossima ci vediamo ciao tiz allora per Antonio ti faccio le ultime due domande l'unica cosa volevo rispondere sono arrivati tanti commenti su micostatin fungizzone terapie antimicotiche e quant'altro anche sulle analisi anche Angelo ci chiede che analisi fare e qua vi dico se guardate i video che abbiamo fatto in precedenza ne parliamo parliamo proprio di tutte queste cose che ci avete chiesto quindi riguardate ve li abbiate pazienza dureranno un'oretta all'uno però sono molto interessanti e vi spiegano bene tutto quello che state chiedendo infatti c'è Francesco Giuseppe Paolo che ci stanno chiedendo sostanzialmente tutte queste cose che abbiamo già parlato invece facciamo le ultime due domande Antonio poi lasciamo andare anche lui abbiamo Giovanni che ci chiede da neofita come ingrandire la taglia tipo di un canarino giallo mosaico come ingrandire la taglia con la selezione e con il canarino con la taglia più grande e devi capire il materiale che hai e cosa vuoi e se nel materiale che hai la caratteristica non ce l'hai devi andartela a trovare fuori eh sì e poi da millenni si fa così si prende quello più che sono le bacchette magiche non ce ne sono eh no Andrea secondo Antonio i lums possono essere ereditari quindi trasmissibili alla prole sì i lums sono ereditari e trasmissibili alla prole se è stato provato soprattutto su studi su goloster o altro genetica sono ereditari più che altro non è il lums ereditario è la struttura della piuma che crea il lums che è ereditaria è quello il problema bene allora direi che ci siamo siamo arrivati alla fine anche di questa puntata quindi se volete fare altre domande Antonio sicuramente comprate il suo libro che sarà esaustivo le sue slide le pubblicheremo che sono chiarissime l'abbiamo visto molto semplici molto chiari si capiscono bene lui è stato chiarissimo quindi chi se lo fosse perso può riguardare guardarsi la puntata sulla nostra pagina sia facebook che youtube penso che la pubblicherà anche Antonio nella sua e quindi niente Antonio ti ringrazio tanto e spero di di risentirci a presto ok grazie a tutti buona serata ciao buona serata e allora signore vi saluto vi ringrazio per essere stati connessi con noi per questa ora dieci siete stati in tanti aspetto tanti commenti continuate pure a commentare anche se non siamo più in diretta cercheremo di rispondervi fatemi sapere cosa ne pensate sia della rubrica della nuova sigla e anche del nuovo cartello da questa parte e vi saluto tutti ci vediamo la settimana prossima con una puntata sui pappagalli e sull'alimentazione di rispondervi Grazie a tutti.